Buongiorno a tutti, oggi siamo con Gennaro Giliberti, dirigente del settore produzione agricole, vegetali e zootecniche della regione toscana e con lui parleremo di un argomento interessantissimo che è l'olio d'oliva, uno dei prodotti insieme al vino e ad altri più conosciuti all'estero e che naturalmente ci rendono per così dire celebri in tutto il mondo e che rappresenta con la Toscana che è la regione che possiamo dire sul podio per non dire al primo posto per quanto riguarda produzione ed expertise sull'olio d'oliva, parleremo di alcuni temi diciamo di interesse generale ma che nello specifico per l'olio d'oliva possono essere degli elementi di grande sfida e di grande opportunità per i prossimi anni. Allora, grazie. Buongiorno, buongiorno a te, sì, piacere di partecipare. Grazie, grazie. Allora, partiamo subito a bomba dicendo che la regione toscana con i suoi quasi 90.000 ettari di superficie ad olio d'oliva e quindi produzione di olio d'oliva è la più importante, possiamo dire, la più importante d'Italia e in quanto tale sicuramente ha già sviluppato alcuni processi interessanti soprattutto per quanto riguarda le prossime sfide della filiera quindi l'impatto ambientale se ne parla ormai, possiamo dire, tutti i giorni in agricoltura. Quali le future presenti in corso sfide per i produttori di olio d'oliva e in generale per la produzione italiana? Sicuramente la Toscana, si diceva bene, ha un ruolo così di primo ordine forse non tanto per le produzioni ma per le produzioni certificate. La Toscana, l'immaginario collettivo, rinvia all'olio, rinvia a questa pianta straordinaria e come regione toscana stiamo cercando di assecondare soprattutto produzioni che vadano nella direzione della qualità. Noi abbiamo necessità di suggestionare produttori, anche stranieri, promuovendo non tanto e non solo l'olio extravergine di oliva in quanto prodotto che fa bene ma l'olio extravergine di oliva toscano in quanto espressione di territorio, di identità culturale, di gestione del territorio, con l'idea che il consumatore che magari sta in Canada o in Sud Corea assaggiando l'olio che ovviamente deve essere eccezionale, possa riandare col pensiero ad una terra che è altrettanto eccezionale. E per fare questo stiamo cercando di ovviamente mantenerci ancorati alla tradizione ma con uno sguardo innovativo che guarda in avanti. E quindi stiamo rovando con i nostri produttori dai vivaisti delle piante che poi vengono portate in campo e che vengono messe a cultura, dai vivaisti fino agli olivicoltori, fino ai trasformatori, fino alla parte della commercializzazione. Un esempio su tutti, stiamo tentando nel distretto vivaistico-olivicolo che è più o meno collocato intorno a Pistoia, di innovare mettendo un chip all'interno delle piantine in modo tale da fare una rintracciabilità direttamente sulla pianta e poter dimostrare al consumatore finale che quell'olio non soltanto viene da lì ma è fatto con delle cultivar tipiche toscane. Ecco, possiamo riassumere, innovare nella tradizione. Direi un processo bellissimo soprattutto perché abbiamo introdotto un argomento importante che è lo standard di qualità che ormai viene richiesto molto all'estero e molto in Italia per tutte le produzioni dopo, ma abbiamo parlato anche di cultivar perché effettivamente l'Italia è la prima al mondo per biodiversità in termini di cultivar, sono quasi 600 varietà diverse e naturalmente il fatto di riuscire a valorizzare questo aspetto è importante. È importante in un momento, parlavamo di impatto ambientale, quindi di riduzione dei mezzi tecnici per l'agricoltura, quindi la chimica, ed anche di gestione della produzione in campo, quindi di sistemi di allevamento. Ecco, su questo la Toscana come si pone? Beh, la Toscana un po' come tutte le realtà olivicole italiane, un po' tutte quelle del Mediterraneo, ha davanti due sfide fondamentali. Una è legata alla sostenibilità ambientale, l'altra alla resilienza ai cambiamenti climatici e noi siamo convinti che proprio grazie a questa agrobiodiversità, cioè alla possibilità di avere un patrimonio genetico estremamente vario e ampio, utilizzando sapientemente alcune cultivar, alcuni cloni addirittura all'interno della stessa cultivar e giocando su forme di allevamento che possono essere, diciamo, un po' più tradizionali, ma anche un po' più intensive, commesse a coltura di più piante a ettero, parliamo di impianti non super intensivi come magari sono quelli che si fanno in Spagna, ma a coltivazioni razionali in cui le piante sono un po' più ravvicinate, in modo tale da avere anche una redditività più alta, perché evidentemente questo consentirebbe di velocizzare le operazioni di raccolta, di potatura, di trattamenti, di lavorazione e quindi lavorare in questo senso per cercare di, come dire, avere possibilità da un punto di vista agronomico razionali, ma che possono avere un minore impatto sull'ambiente. Non dimentichiamo che, per esempio, una delle molecole che maggiormente viene utilizzata per combattere la mosca dell'olivo, il principio attivo è il dimetoato, è stato di fatto messo al bando. Quindi questa testimonianza del fatto che c'è sempre grande attenzione, la Toscana sta andando verso il biologico, il 30% della superficie agricola utilizzata e biologica, ma mantenendo anche qui, diciamo, una sostenibilità che deve essere sia ambientale, ma che deve essere anche di reddito economica per l'impresa, altrimenti senza, come dire, in Toscana si dice che senza lilleri non si landera. Giusto. Una domanda sui due temi che abbiamo, diciamo, discusso velocemente e molto chiaramente fino adesso, ma è una domanda più che altro parlando anche di questa educazione, di questa attenzione, diciamo, verso la riduzione intelligente e moderata dell'uso, più che della chimica, nel portare a casa il prodotto, quindi il raccolto e nello stesso tempo anche comunque di gestire le patologie che poi ovviamente e i parassidi che comunque ci sono, insomma, nell'industria, chiamiamola l'industria a cielo aperto che è l'agricoltura. Mi viene una domanda. Voi in Toscana avete tantissimo, cioè avete una parte di produzione che è sicuramente a reddito, quindi organizzata in termini di imprese, di redditività, però c'è anche una parte, diciamo, di produzione che non è certificata e rientra nel paesaggio toscano, cioè quello di chi ama comunque l'ulivo in quanto tale, come pianta, diciamo, chiamiamola volgarmente ornamentale nel giardino, quindi obistica. Ecco, rispetto a questa parte di produzione, come si pone comunque la regione? Perché rappresenta comunque una fetta importante della superficie, diciamo, paesaggistica, ecco, della giardinistica, che non esiste, del mondo toscano. È una delle nostre sfide su cui abbiamo provocato la filiera olivicola e chiesto, diciamo, in modo concertato con tutti gli attori di questa filiera, di cercare soluzioni intelligenti e razionali per conciliare quello che qualcuno ritiene sia inconciliabile, cioè quell'olivicoltura paesaggistica che ha una valenza ambientale, penso agli olivi che circondano Monterigioni, penso agli olivi delle colline del Montalbano, ecco, conciliare quella forma di olivicoltura con un'olivicoltura invece un po' più intensiva, un'olivicoltura, diciamo, più meccanizzabile, più moderna, che può garantire una produzione, ovviamente, di elevata qualità, con un basso impatto ambientale, che rispetti chiaramente tutti i principi della moderna nutrizione, ma che consente di avere anche, diciamo, una massa critica per poter andare sui mercati. È chiaro ed evidente che una realtà come la Toscana, con 38 milioni di persone che venivano e che ci auguriamo ritornino presto a farci visita, era molto più facile, come dire, proporre l'olio extravergine di Oliva Toscano in un agriturismo, in un ristorante agrituristico. Ora che invece siamo un po' più, come dire, della serie non potete venire voi, ve lo portiamo noi, abbiamo bisogno di quantità importanti e per fare questo stiamo cercando, attraverso dei progetti integrati di filiera, cioè dei progetti che mettano insieme tutti gli attori e che costringano, in qualche modo, a viaggiare tutti insieme verso un unico obiettivo, devo dire che come Toscana stiamo avendo dei risultati veramente, in talunicasi, addirittura sorprendenti. E questo ci incoraggia e ci lascia ben sperare per il futuro. Io ritengo che la coltivazione olivicola, che finora è stata un po' la cenerentola, perché nella fattoria toscana, ma un po' in tutte le fattorie, quando finivano di lavorare la vigna si dedicavano all'olivo, era un qualcosa in più. Ecco, invece noi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza e di dare la possibilità agli olivicoltori toscani, ma non solo, in questo la Toscana può essere una guida, un faro, per tutti i territori olivicoli italiani, a dare maggiore considerazione a questa produzione. Abbiamo toccato un tema importante che, anzi, due temi importanti. Il primo tema è la filiera integrata, perché ormai quando si parla di produzioni e si parla poi, diciamo, di prodotto trasformato, c'è sempre il tema della sinergia all'interno della filiera. Ormai si parla sempre di filiera integrata, pensando ai centri di ricerca, pensando all'università, sviluppare sempre nuovi temi, nuova innovazione, tecnologia che possa comunque essere, o specializzazione che possa essere poi trasferita lungo i vari personaggi che, appunto, popolano una filiera di produzione agroalimentare. Però, all'interno della, alla fine della filiera, diciamo, ci sta anche il tema di chi poi il prodotto lo deve, diciamo, presentare al consumatore finale a vari livelli, che sia la distribuzione, che sia il canale dell'Oraka, che siano il canale delle noteche, c'è un tema di comunicazione, della qualità e anche poi di trasferimento delle impressioni dal consumatore al produttore, perché poi diventa un cerchio tutto questo. Ecco, su questo, voi, su queste sinergie, anche con gli ultimi anelli della filiera, pensate, state lavorando, pensate che possono avere, appunto, una loro qualità, un loro valore aggiunto rispetto poi allo standard del prodotto agroalimentare? È assolutamente strategico, è irrinunciabile. L'anello che noi stiamo, su cui stiamo lavorando maggiormente, quello un po' più a valle della filiera, e alludo ovviamente al mondo della ristorazione, è cruciale, perché gran parte della conoscenza, della presentazione, della fascinazione su questo prodotto, a nostro avviso, possono farlo molto bene i ristoratori. E se sul vino siamo stati, diciamo, un po' costretti dalla sera alla mattina, complice, vi ricordate, il metanolo, in cui decidemmo d'amblè di passare dal vino sfuso al vino in bottiglia, e lì i ristoratori riuscirono a rispondere in maniera efficace, altrettanto dobbiamo fare per l'olio. E quindi richiedere la bottiglia dell'olio a tavola col tappo antirabocco e proporre da parte del ristoratore una carta degli oli, consentire al consumatore che attende in un quarto d'ora in cui, come dire, dalla comanda gli arrivano le pietanze in tavola, poter fare degli assaggi a tavola con del pane, con dei diversi oli, l'olio fruttato, quello un po' più piccante, quello di Montalbano, quello di Greve, quello di Lucca. Ecco, a nostro avviso, l'anello della ristorazione è cruciale, anche perché, purtroppo, nelle nostre famiglie ormai abbiamo perso un po' quel contatto con una certa cultura dell'olio, e quindi usiamo un po' indifferenziatamente oli così, da crudo, da cotto, da fritto. In realtà esiste un mondo di gusti, di colori, di sapori, di sfumature che possono veramente valorizzare anche le nostre pietanze. Su questo stiamo lavorando in un progetto che si chiama Vetrina Toscana che mette insieme proprio questi due attori, i produttori e i ristoratori. Compie vent'anni quest'anno questo progetto e vuol davvero, ora in una chiave completamente rinnovata, puntare dritto sul ristoratore come, come dire, come cicerone, come introduttore, soprattutto anche degli stranieri, verso questa produzione che ha migliaia di anni. Gennaro, io ti ringrazio tantissimo perché, a parte avermi fatto venire voglia di sedermi a tavola e assaggiare un po' di olio sul pane, che era un po', e spero anche a qualcun altro, ma devo dire che mentre tu parlavi e mi raccontavi tutte queste cose, io guardavo lo sfondo meraviglioso che hai e pensavo che effettivamente noi in Italia siamo veramente un popolo fortunato e non ci rendiamo nemmeno conto quanto, insomma. Quindi sì, dobbiamo lavorare molto e probabilmente se riusciremo a lavorare molto e bene, magari anche trasferire queste esperienze che ci sono, diciamo, in alcune regioni d'Italia molto avanti, anche nelle collaborazioni, probabilmente riusciremo anche a, diciamo, monetizzare meglio il nostro bel paese, insomma, perché è un bel paese di fatto e non soltanto perché lo diciamo. Allora, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, sei, insomma, stato gentilissimo, chiarissimo naturalmente, e mi riservo di poterti sentire più avanti anche per capire come stanno andando questi progetti, sia questo progetto, diciamo, che ha compiuto vent'anni, sia anche questi progetti legati alla valorizzazione anche dello standard di qualità, perché l'impatto ambientale, lo standard di qualità e anche la scelta di come gestire un allevamento all'interno di uno spazio agricolo è importante anche questo, perché sono delle esperienze che potrebbero essere magari non copiate, perché è un brutto termine, ma emulate, diciamo, da altre regioni d'Italia. Quindi apriamo, fate da apripista da pionieri, che è sempre una cosa positiva. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e saluto tutti. Grazie, buona Toscana a tutti! Grazie a tutti!